Buongiorno e bentrovati a questo appuntamento con Mattino 6. La nostra rassegna stampa inizia subito, come sempre, dalle prime pagine dei quotidiani regionali. Partiamo dal centro edizione di Pescara, il titolo che apre il giornale è questo qui, Confiscate le ville alla criminalità. Il Comune acquisisce 7 immobili destinati alle associazioni. Andiamo a vedere nel taglio alto poi la visita di Fioramonti del Ministro dell'Istruzione all'Aquila. Il Ministro annuncia 12 milioni in tre anni per la ricerca nei laboratori del Gran Sasso. Più tardi andremo a vedere il servizio. Poi Regione Abruzzo nomina di gatti e bilancio, ipotesi baratto, lega alleati. Il caso Abruzzo, la chiusura dei quattro tribunali, slitterà al 2022. Scendiamo adesso nel taglio centrale, andiamo nella fotonotizia. Spoltore in lutto, morta la moglie, anche il marito non ce l'ha fatta. Schianto in auto, dolore per la scomparsa dell'ex capo dei vigili. Non ce l'ha fatta, infatti, Paolo Cecamore, ex comandante dei vigili di Spoltore, rimasto coinvolto con la moglie Gabriella Scorrano nel tragico frontale di lunedì sera in via del campo sportivo. Dopo la moglie è deceduta sul colpo, è morto anche Cecamore nell'impatto tra la 600 sulla quale viaggiavano, con l'appunto condotta da un 25enne di Cappelle, ora indagato per omicidio stradale. Poi andiamo a vedere ancora preside pescarese arrestata a Milano. Era ricercata dopo una condanna a cinque anni per bancarotta, spariti i beni della scuola. Di spalla, nelle cronache, a Pescara, scuola, denunce anti-bulli raccolte dagli studenti. Studenti sentinelle nelle scuole pescaresi per bloccare i bulli, un'applicazione gratuita ed anonima consentirà loro di ricevere le denunce. Appenne la Brioni, cambio a sorpresa del manager per quanto riguarda il calcio, la festa di fine anno del Pescara, Sebastiani serve più coraggio, questa l'esortazione del presidente nei confronti dei giocatori della sua squadra. Poi nel taglio basso, obiettivo raggiunto da Lega EPD, Cannabis Medica, sì in Abruzzo, l'assessore Veri sarà usata in tutte le asle per curare il dolore. Il discorso questo che va avanti, andava avanti da diversi anni con delle patologie che hanno appunto bisogno di una cannabis terapeutica per lenire i dolori provocati. Poi ancora torniamo allo sport, Iannone stop per doping, il pilota avastese dice sono tranquillo perché sono pulito. Andiamo a vedere sempre il centro, edizione di Chieti-Lanciano-Vasto che apre con l'arrivo di Salvini ma la Lega si spacca. Il partito pronto a lanciare di Stefano Sindaco, primi contrasti a Chieti. Poi andiamo a vedere nelle cronache Chieti e ancora San Giustino partono i lavori da 1,5 milioni, riqualificazione architettonica di Piazza San Giustino si intitola così il bando della gara d'appalto per cambiare la faccia alla piazza principale di Chieti. Poi a Lanciano, Donenzio, addio al Vescovo della Squilla, ancora vasto rischio frane al via l'appalto da 800 mila euro. andiamo a vedere nel taglio centrale la cronaca, foto sé per costringerla a fare sesso, un anziano con la scusa di un colloquio di lavoro spoglia a forza, una 53enne accaduto a Chieti. Adesso ci spostiamo sull'edizione teramana del quotidiano Il Centro, il titolo di apertura, arrivano 100 case per gli sfollati, il later di Teramo sblocca finalmente l'acquisto degli appartamenti. Questa è l'apertura. Poi andiamo a vedere nelle cronache, ultimo saluto al missionario Donenzo, il funerale nel Duomo di Teramo del sacerdote missionario Donenzo Chiarini, è stato commosso e partecipato anche dalla comunità del Burundi. Poi ancora Giulianova, furti d'auto in serie, banda sgominata, Teramo, il teatro romano, l'appalto entro la primavera. Poi ad esca ragazzi sui social viene arrestato e di Giulianova fingendosi una donna convince due minorenni a filmarsi nudi. A centro pagina nella fotografia il Teramo che festeggia il Natale in attesa di sapere se domenica gioca. Dunque questo è il dubbio che ha animato, non solo, chiaramente la festa del Teramo. Si giocherà o no nel prossimo weekend in Serie C, dopo lo sciopero indetto lunedì. L'interrogativo troverà una risposta nella giornata di oggi al termine di un incontro fra i vertici della FIGC e della Lega Pro e il ministro dell'Economia Gualtieri. Intanto il Teramo ha festeggiato il Natale con una cena e vedete proprio la foto, ricordo, con il presidente Iachini. Andiamo a vedere poi l'edizione aquilana del quotidiano Il Centro. In apertura torniamo alla visita di Fioramonti all'Aquila, scuole dal ministro, solo i comitati. Gli enti disertano l'incontro per accelerare la ricostruzione. Nel taglio alto la Elfoundry restano i 1500 contratti di solidarietà per l'azienda di elettronica marsicana. Poi ancora si ritorna nel centropagina, invece all'interno dei laboratori del Gran Sasso. Fioramonti annuncia lo stanziamento da 12 milioni per il GSSI. L'Aquila, il ministro, all'inaugurazione dell'anno accademico. I soldi arriveranno con un decreto ad hoc che potrebbe approdare in Consiglio dei Ministri già nella giornata di domani. Il governo continuerà ad investire sul Gran Sasso Science Institute che necessita di ulteriori risorse, assicurato Fioramonti. Poi sotto la fotografia, nella marsica, ora è allarme furti. In pochi giorni una decina di colpi nelle case, stessa tecnica e forse stessa banda. Nelle cronache il caso di Iorio fa discutere all'università e il rettore a merito vorrebbe tornare a insegnare, ma si ribellano i suoi accusatori come il professor Tiberti non può rivendicare nulla. Poi a Vezzano lo storico mercato torna nel centro città sul Mona e morto l'ex manager della ASL d'Eramo. Adesso lasciamo il centro, andiamo a vedere la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. Ritorniamo alla visita di Fioramonti all'Aquila. A Fioramonti avrete le scuole. Il titolo che apre il giornale col virgolettato del ministro. Nessun istituto è stato ricostruito a dieci anni dal sisma. L'Aquila ha promessi maggiori finanziamenti durante l'apertura dell'anno accademico del GSSI. Poi si torna a parlare della popolare di Bari, del crack dell'Istituto Pugliese. c'è un esposto sull'acquisto della Tercas presentato dal Codacons che si scaglia contro Banca d'Italia con tanto di esposto alla procura terramana perché si verifichi se Palazzo Coc sia colpevole di omessa vigilanza. Poi nelle pagine nazionali approfondiremo anche il tema popolare di Bari. Ci sono ulteriori rivelazioni sull'argomento. Andiamo adesso a vedere il centropagina. Pedofilo addiscava ragazzini sul web fingendosi donna. Arrestato un 35enne era riuscito a fissare un appuntamento con uno dei minorenni. L'incidente di Spoltore. Paolo Cecamore è sopravvissuto poche ore alla moglie. Schianto a Spoltore è morto anche il marito. Abbiamo visto anche in precedenza. Poi a Pescina svaliggiata la casa del vice sindaco Tiziano Giulianella. Andiamo a vedere l'articolo di Spalla. Strage di gatti dopo quella di cani. Giallo nel terramano. Sullo sfondo la guerra tra cacciatori e cercatori di tartufi indaga. La forestale. Nel taglio basso la causa niente rimborsi ICI. Chieti cita lo Stato. Finisce sul tavolo dei giudici il mancato rimborso ICI da parte del governo al comune di Chieti. Nel taglio alto andiamo a vedere le altre notizie. Nozze difficili. Fusione delle camere di commercio dal capoluogo out out a Teramo. Per la serie B Pescara il rilancio passa attraverso Palmiero Regista. E poi la moto Iannone positivo al doping sospeso dalla federazione. Le analisi rintracciano steroidi anabolizzanti nel sangue del campione. Il vastese ex di Belen si difende. Sono pulito. Voglio altri accertamenti. Andiamo a vedere anche la città. Il quotidiano della provincia di Teramo. Il titolo di apertura si finge donna per adescare minori. Pedofilo teramano di 35 anni arrestato dalla polizia postale e delle telecomunicazioni. Poi ancora nel taglio alto la maggior parte dei colpi a Giulianova arrestata la banda dei furti d'autovetture. A Martinsicuro sicurezza e buche con i soldi delle multe. Il casello di Roseto presentata all'istanza per il dissequestro. Poi andiamo a vedere a centropagina il teatro romano epocale ma indefinito. Il sindaco insiste sulla bontà del progetto. Andiamo a vedere il regalo dell'Ater per Natale sbloccato l'acquisto di 100 case per gli sfollati a Giulianova albero di Natale vandalizzato e pendente. Poi la popolare di Bari conti truccati e cattivo management. C'è un audio della D De Bustis che come vi ho anticipato vedremo anche nei quotidiani nazionali. Il ministro Fioramonti all'INFN i laboratori ricerca scientifica senza uguali tra pochissimo prima di passare ai quotidiani nazionali vedremo il servizio ultimo viaggio per Don Enzo Chiarini poi folla ai funerali del missionario morto in Burundi. Nel taglio basso troviamo a Teramo l'isola ecologica abusiva all'istituto Noe Lucidi e poi per il calcio il numero uno del diavolo spiega le ragioni dello sciopero della Serie C. Ma come detto torniamo alla visita delle missionari all'Aquila all'interno dei laboratori del Gran Sasso andiamo ad ascoltare una sua intervista e poi anche le parole del governatore Marsilio sulla messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso e dei laboratori sentiamo Una grande eccellenza italiana una storia nell'ambito della fisica di dove forse l'Italia è sicuramente tra i primi paesi al mondo delle infrastrutture di ricerca che sono di altissima qualità un livello anche di perfezionamento della ricerca scientifica perché la purezza che si deve raggiungere in stabilimenti come questo non ha uguali al mondo e quindi dimostra da un lato la grande storia della ricerca fisica italiana la grande tecnologia che viene realizzata in queste strutture e la grande possibilità anche di impatto che poi queste tecnologie e questi esperimenti hanno non soltanto sulla ricerca scientifica ma sull'indotto economico sul settore industriale perché voi dovete sempre ricordare che la ricerca che si fa qua ha un obiettivo di carattere scientifico ma in questo percorso verso il raggiungimento di risultati scientifici si utilizzano delle tecnologie che poi cambiano la vita ai tutti i giorni delle persone come noi oggi siamo qui con il commissario Gisonni che per la prima volta appunto prende contatto diretto con questi laboratori e con l'istituto di fisica nucleare insieme anche alle responsabili degli acquedotti per verificare come dire un primo sopralluogo sul campo abbiamo approfittato di questa visita del ministro per cominciare a fare appunto un sopralluogo sul campo far vedere la situazione prendere conoscenza delle problematiche c'è un'attenzione spasmodica sulle problematiche relative a possibili potenziali fonti di inquinamento questo sta rendendo difficile la vita ai laboratori e il commissario è stato nominato i soldi che abbiamo fatto stanziare dal governo 120 milioni sono una prima somma che servirà a mettere in sicurezza tutto il sistema perché il nostro obiettivo è garantire la salute la salubrità dell'acqua la percorribilità dell'autostrada la vita e la ricerca scientifica dei laboratori e allora andiamo ai quotidiani nazionali rapidamente i titoli principali partiamo dal Corriere della Sera in apertura la pedofilia e la svolta del Papa abolito il segreto sugli abusi commessi dai chierici vittime fino a 18 anni diventano pubblici i processi le decisioni e le denunce via il nunzio sott'accusa a Parigi queste le decisioni del Vaticano poi come vi ho anticipato il caso popolare di Bari i PM indagano su un audio si apre il caso Lannutti per conflitto di interessi poi il racconto di una prof così ho perso 440 mila euro una professoressa di scienze motorie del liceo di Santa Maria Capo a Vetere si è presentata ieri al tribunale di Bari Banche e risparmio e l'editoriale di Lucrezia Reiklin gli errori tra parentesi ripetuti sul credito il caso popolare di Bari insomma è l'ultimo di una serie di crack di banche a partire dalle banche venete e poi anche per arrivare alla nostra regione proprio a Tercas a Caripe e Carichieti che finirono nell'occhio del ciclone insieme ad altre banche poi andiamo a vedere per quanto riguarda invece belle notizie lo sport a Corceval Brignone Scavalca Schifrin e Sale Invetta vittoria di Federica l'italiana gigante lo vedremo anche nei quotidiani sportivi nazionali torniamo invece su Repubblica nell'apertura ai preti pedofili il Papa e giustizia sia lo strappo di Francesco tolto il segreto di Stato agli atti dei processi canonici sugli abusi sessuali un gesto d'accusa contro l'omertà di molte diocesi via il nunzio francese indagato per molestie da oggi tutti i tribunali potranno chiedere documenti al Vaticano questa la svolta epocale per quanto riguarda appunto la questione pedofilia nella Chiesa banche rotte patuanelli attacca banche d'Italia non vigila troppi casi come la popolare di Bari negli ultimi anni andiamo a vedere poi il centropagina la fotografia la grande protesta spegne Parigi Natale al buio per gli scioperi tagliata la luce a 90.000 famiglie i manifestanti protestano per la riforma delle pensioni andiamo a vedere adesso sulla stampa il titolo di apertura cambiamo tenore Di Maio preme su Sarraggi i soldati di Erdogan restino fuori dalla Libia fredda la risposta di Tripoli siamo in guerra servono le armi di Ancara missione del ministro degli esteri da Italia e Unione Europea no alla presenza turco-russa in Libia poi a centropagina Venezia un'altra magia i giardini reali dietro San Marco questo per quanto riguarda le bellezze del nostro paese ci spostiamo sul sole 24 ore l'apertura è dedicata la fusione fra Peugeot ed FCA ora la sfida è sull'elettrico settore automotive importantissimo per la nostra nazione non solo anche per il nostro Abruzzo dove c'è la Sevel e dove la collaborazione fra FCA e il gruppo PSA Peugeot Citroen va avanti ormai da tantissimo tempo e dunque questo speriamo che consolidi anche la posizione della Sevel in Abruzzo poi andiamo a vedere il caso Exilva l'accusa di Arcelor ai commissari al Tribunale dell'esame e ricorso di Arcelor Mittal poi andiamo a vedere le altre notizie in particolare la Popolare di Bari la Consob indaga sui conti veri e mai comunicati questo emerge insomma dalle varie indagini che si stanno portando avanti sul crack della Popolare di Bari il fatto quotidiano in apertura il fatto non va bene parla di lei ora la Casellati dà le pagelle ai giornalisti cita i cronisti uccisi e rivendica le lettere minatorie questo è lo scontro fra il fatto quotidiano e il presidente del Senato l'audio dei vertici della Popolare di Bari Banca Italia sta con noi siamo salvi ma nessuno osa toccare il re Visco poi andiamo a vedere su un'altra trattestata sul messaggero ancora la Popolare di Bari in apertura i conti dello scandalo carte taroccate IPM l'audio dell'ex direttore generale De Bustis già indagato i casi da Parnasi ai Diamanti commissione sulle banche scontro sull'Annutti lega favorevole ma di Maio pronti altri nomi ancora soccorso al governo giallorosso Grillo a Roma per blindare Conte giustifica i transfughi sono stati lasciati soli per quanto riguarda il Vaticano le vittime dicono finalmente ma in Italia cambierà poco la CEI frena pedofilia la svolta di Francesco abolito il segreto nei processi andiamo avanti sul quotidiano il tempo calamità di Stato psicogoverno su Pop Bari prima la inguaia poi la salva l'istituto aveva in pancia 400 milioni dell'agenzia del farmaco tolti per decreto anche per questo la banca è finita per aria ed è dovuto intervenire Palazzo Chigi su avvenire senza più segreti è il titolo del quotidiano cattolico sulla decisione del Papa che cancella l'obbligo della riservatezza pontificia sugli abusi nella Chiesa Scicluna dice una scelta epocale che toglie ostacoli e impedimenti alla giustizia trasparenza è un doppio riscritto innalza anche da 14 a 18 anni il limite d'età per la pedofilia ci spostiamo adesso sul manifesto il titolo con la foto di Papa Francesco che guarda Piazza San Pietro è alleluia abbastanza chiaro il titolo del manifesto il Papa apre gli archivi del Vaticano cade il segreto pontificio sugli abusi dei preti pedofili una decisione epocale che dà il via libera alla collaborazione con i magistrati di altri paesi gli atti dei processi non potranno più essere negati le vittime ora l'obbligo di denuncia ancora si va in Gran Bretagna adesso Corbyn vittima dell'odio della destra intervista Ken Loci in Gran Bretagna le elezioni più terribili della storia del mio paese questo per quanto riguarda la vittoria della destra conservatrice in Gran Bretagna poi adesso Libero i giallorossi mistificano la realtà le palle di Natale e il titolo salveremo i risparmiatori della PopBari no i risparmi dei 69 mila soci saranno falciati non è la manovra delle tasse sbagliato perché bibite plastica e auto costeranno di più entro l'anno l'autonomia bugia al vertice di maggioranza non c'è l'intesa sul regionalismo nessun esubero all'ILVA falso nel piano dell'esecutivo si parla di almeno 3500 licenziamenti e poi troveremo un accordo sulla giustizia sarà sulla prescrizione è ancora tutto in alto mare questa la visione diciamo da una prospettiva negativa di Libero poi sulla verità il crack della popolare di Bari la confessione bilanci falsi a Bari l'amministratore delegato De Bustis registrato una riunione del 10 di dicembre con il presidente Giannelli che rassicurava abbiamo dalla nostra Banca Italia il mondo politico non saremo commissariati da IPM nessun sequestro pro risparmiatori andiamo a vedere ancora sul mattino di Napoli università e ricercatori ignorati dalla manovra il ministro Fioramonti insoddisfatto così la formazione non va più avanti vertice con Conte sull'autonomia stop di Renziani e 5 Stelle testo da rifare la questione preti pedofili la svolta del Papa via il segreto collaboriamo con la magistratura e poi per quanto riguarda le interviste la terra dei fuochi pericolosi gli studi fatti senza rigore tumori il direttore dell'istituto zooprofilattico contesta Giordano Campione non indicativo andiamo a vedere adesso i quotidiani sportivi nazionali partiamo dalla Gazzetta dello Sport in apertura c'è l'Inter 50 milioni per conquistare lo scudetto e il budget a disposizione di Marotta per rinforzare la squadra a gennaio in Paul Marcos Alonso e Kulusevski alternativa De Paul stand by per Vidal dunque questi gli obiettivi di mercato dell'Inter poi la questione Iannone nel taglio alto positivo all'antidoping steroidi rischia stop di due anni il pilota vastese dell'Aprilia in MotoGP si difende e dice dimostrerò che sono pulito il caso del commissario in Lega Cicala si dimette gravina punta su Abete di spalla Quercia Buffon Gigi contro la Samp fa 647 presenze in A e raggiunge Paolo Maldini poi ecco Marchisio Juve in mezzo serve qualcosa visti da Veltroni l'intervista appunto a Marchisio il recupero della settima giornata alle 20.45 Balodezerbi doppia sfida in Brescia Sassuolo Cassano farò il DS nel mio club vorrei Bielsa sono diventato ricco e famoso grazie a quel gol segnato all'Inter vent'anni fa la rete che lo ha lanciato e consacrato nel grande calcio Conte cita Pelè torniamo all'Inter voglio lasciare una traccia più difficile la vittoria più ci sarà gioia questo ha detto Conte alla festa di Natale dell'Inter nel taglio basso c'è spazio anche per lo sci Brignone sei proprio gigante l'Azzurra vince a Corcevalle ed è prima nella classifica di specialità ci spostiamo sul Corriere dello Sport il titolo di apertura ce li ha addosso la galoppata di otto vittorie consecutive fa della Lazio il terzo incomodo tra Inter e Bianconeri per uno scudetto sempre più contendibile l'attesa della Supercoppa si carica di suspense stasera la Juve anticipa Marassi alle 18.55 dopo otto anni di dominio la corsa adesso dunque è a tre per vincere il campionato nel taglio alto sì è la nostra maratona presentata ieri il 29 marzo nel cuore di Roma la corsa più bella del mondo la Run Rome e poi andiamo a vedere le altre notizie di spalla il mercato Rodriguez e Torreira per Gattuso il Napoli cerca rinforzi per salvare la stagione Jovic e Diaz il Milan tratta con il Real poi il Bologna vuole Jesus e Barro per quanto riguarda ancora il mercato nel taglio basso ritroviamo anche l'impresa di Federica Brignone che trionfa a Corcevalle gigante della neve il sorriso di Fede andiamo a vedere poi su tutto sport e completiamo così la prima parte della nostra rassegna stampa Sarri svela il segreto Juve il club con una mentalità grandissima e Agnelli per primo è sempre sul pezzo una spinta a migliorarsi sempre oggi 18.55 Bianconeri Ammarassi contro la Samp confermato Rabiot poi nel taglio alto Blitz Siviglia vuole Itzo già a gennaio osservato dagli spagnoli a Verona Dea tentata dal ritorno di Caldara Atalanta cerca rinforzi in difesa Inter Conte insiste per Vidal incontro con la gente da parte di Marotta per portarlo in Nerazzurro scandalo San Siro si pensa di trasformarlo in un centro commerciale vedremo che cosa accadrà allo stadio di Milano poi antirazzismo Lega Chiautogol Lukaku perdonali se puoi Ancelotti o yes va all'Everton dunque dopo l'addio al Napoli Ancelotti va in Premier League Brignone che trionfo in gigante la Coppa di C vince a Corcevalle ed è leader infine abbiamo le brutte notizie per Iannone incubo doping trovate tracce di steroidi anabolizzanti in un controllo fatto al GP di Sepang Adesso ci fermiamo per il break pubblicitario prima però andiamo a vedere le previsioni meteo per le prossime ore e poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa Di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6 torniamo alle notizie dalla nostra regione nelle pagine interne dei quotidiani abruzzesi in primo piano sul centro la politica verso l'accordo su bilancio e caso Gatti il sì della Lega alla nomina nella Corte dei Conti passa per le leggi volute da Salvini Marcozzi dei Cinque Stelle svela un dietro le quinte e in Forza Italia poi la riorganizzazione è stata affidata a Febbo ancora la chiusura slitterà al 2022 l'Abruzzo vicino al salvataggio dei suoi quattro tribunali minori e poi sul fronte del porto e De Bacl la denuncia di testa e Sigismondi di Fratelli d'Italia e noi in commissione bilancio alle richieste di Marsilio da 50 milioni andiamo a vedere l'apertura di pagina nella pagina Abruzzo sul messaggero la manovra regionale l'ombra del maxiemendamento se finirà se sarà così scusate finirà in una bolgia Mariani la legge da 150 mila euro a consigliere la maggioranza per adesso smentisce tutto cambia il calendario in aula si va il 27 tensioni in commissione critiche a Liris poi il provvedimento che apre alla cannabis terapeutica ecco le nuove regole varate dalla giunta regionale nel taglio alto Gran Sasso Gisonni no alla riapertura senza le limitazioni così il commissario del Gran Sasso ieri lo avete visto nei laboratori di fisica nucleare nel taglio basso sisma niente fondi per le scuole di Nicola non vota la manovra il senatore abruzzese tra i quattro che si sono astenuti mi sono battuto fino all'ultimo ma senza successo racconta primo di Nicola poi torniamo sul quotidiano il centro andiamo a vedere la pagina che riguarda proprio la visita di Fioramonti all'Aquila il ministro annuncia 12 milioni al GSSI all'inaugurazione dell'anno accademico del Gran Sasso Science Institute con i Nobel Rubia e Baris nel taglio basso all'interno del Gran Sasso il laboratorio un gioiello assoluto il componente del governo entra nell'istituto di fisica nucleare l'abbiamo visto nella prima parte della nostra rassegna andiamo nella pagina Abruzzo la decisione della giunta torniamo sulla cannabis medica il via libera anche in Abruzzo sarà usata in tutte le ASL per la terapia del dolore l'obiettivo centrato dall'assessore veri della Lega e dal consigliere Blasioli del partito democratico qui ci sono anche in pillole i contenuti del provvedimento andiamo a vedere nel taglio basso tre abruzzesi nel quartier generale dei Cinque Stelle Alessandrini Torto e Sabatini elette nel team che affiancherà Di Maio andiamo a vedere la pagina che riguarda la visita di Fioramonti all'Aquila nei laboratori di fisica nucleare sulla città ricerca scientifica senza uguale al mondo il ministro Fioramonti ha visitato ieri i laboratori post-sisma lo stesso ministro ha annunciato un iter più fluido per gli appalti delle scuole con Invitaglia che diventa stazione appaltante nel taglio basso ritroviamo anche la delibera per la prescrizione dei cannabinoidi terapeutici farmaci contro il dolore potranno essere dati anche dai medici generici sulla base delle indicazioni dello specialista torniamo sul quotidiano il centro andiamo a aprire la pagina di Pescara i beni della malavita assegnati al comune nuovo scacco alla criminalità confisca di ville case e garage blitz dei vigili urbani acquisiti sette immobili in via Sacco via Terno e via Colle Marino masci dopo gli sfratti continuiamo a dare risposte ai cittadini che chiedono legalità ieri c'è stato anche il rogo nell'ex Enaip scappa sul tetto per sfuggire alle fiamme salvato dai pompieri ma noi invece adesso torniamo ai beni confiscati alla malavita ed assegnati al comune e andiamo a vedere il servizio questa mattina nove abitazioni entrano in possesso del comune di Pescara nove abitazioni confiscate alla malavita sindaco Masci prosegue la marcia verso la legalità che è uno dei punti fondanti del vostro programma in maniera incessante prosegue noi negli scorsi due mesi abbiamo effettuato venti sfratti di immobili occupati abusivamente e invece in questo periodo stiamo prendendo possesso degli immobili confiscati dalla criminalità organizzata ne sono 27 oggi soltanto ne prendiamo 9 che stiamo requisendo e verificando personalmente per capire bene quali possono essere gli utilizzi che dovranno essere sicuramente utilizzi che riguarderanno il sociale riguarderanno la cultura perché questi immobili devono tornare in mano alla comunità pescarese per troppo tempo sono stati in mano ai delinquenti alla criminalità organizzata oggi invece questi immobili saranno trasformati e riutilizzati per fini sociali vogliamo ricordare dove si trovano in quali zone della città questi immobili? in diverse zone della città abbiamo via Tavo via Colle Marino via Passo Lanciano via Sacco quindi sono sparsi un po' per tutta la città conferma del fatto che purtroppo i criminali li troviamo dovunque però adesso stiamo conducendo una lotta serrata rispetto a queste situazioni e devo dire che sono molto contento per il fatto che i cittadini per bene scendono dalle loro abitazioni e ci ringraziano per queste azioni che sono assolutamente importanti per dare un segnale chiaro di presenza delle istituzioni di presenza del comune per una città sempre più votata alla legalità apertura di pagina di Pescara sul messaggero dedicata alle opere bloccate le priorità dell'assessore Albore Mascia che fa il punto della situazione fra luci e ombre a Redi per la città della Musica e Bando per il Ferrotel nella lista nera la casa di riposo di via Rapietra in vendita e le Teatro Michetti la cui riapertura richiederà 4 milioni più tutela per gli edifici storici e quanto chiede Licio Di Biase che dice urge una riflessione sul rilancio di Pescara Vecchia da recuperare anche il piazzaforte mosaico e area del Rampigna restiamo sul messaggero ancora opere in qualche maniera e programmazione urbanistica Masci conferma il DUP con l'Ateneo Alex Cofa subito un confronto tavolo con Regione Università e il Rettore apre al dialogo ma guarda a Viale Pindaro il sindaco incalzato dal Partito Democratico poi Mucciante uccise il vicino in garage sicuro che non sarebbe stato visto il GUP sulla sentenza dell'omicidio via del circuito poi ancora anziano rapinato la polizia arresta la donna della banda indagine Lampo poi torniamo sul centro ancora pagina di Pescara l'aggressione in via Mazzarino sarto picchiato e rapinato in casa arrestata la donna della banda la polizia scopre i responsabili del colpo del 20 di novembre l'anziano preso a pugni e derubato dell'oro nella spinelli tradita da un'impronta lasciata nell'appartamento indagati anche due suoi familiari poi risarciti i familiari del vicino di casa ucciso il delitto di via del circuito e le motivazioni della condanna a 16 anni mucciante agì per i rumori molesti così scrive il giudice addio al notaio che fece rivivere l'eremo del Vate morto a 91 anni Fernando De Rosa pensionati in piazza aiutiamo gli anziani non autosufficienti è la richiesta nella pagina successiva arrivano gli studenti sentinelle stop agli atti di bullismo a scuola presentato all'istituto a Terno Mantone il progetto europeo della Beach Golf Sports Association attraverso un'applicazione gratuita sarà possibile denunciare in modo anonimo le prevaricazioni preside pescarese arrestata a Milano tra notizia di cronaca Gabriella D'Agostino era ricercata dopo la condanna a 5 anni per bancarotta spariti i beni della scuola privata che dirigeva ospedale torna il servizio reumatologia riapre il reparto assistenza per mille pazienti ripristinata dopo 5 anni l'adegenza che si affiancherà all'abulatorio e al dei hospital poi nelle pagine di Montesilvano la città che cambia nuovi fondi cittadella dello sport nel centro trisi lavori al via a gennaio l'impianto di via San Gottardo sarà riqualificato ed ampliato previsti anche un albergo e un centro di medicina sportiva doppia tragedia lo schianto a spoltore morto anche il marito la procura dice è omicidio stradale dopo Gabriella Scorrano non ce l'ha fatta Paolo Cecamore ex comandante dei vigili di spoltore indagato il conducente della punto un 25enne di cappelle che stava tornando a casa con il fratello poi trova quattro bombe a mano e se le porta a casa città Sant'Angelo il cittadino ha dato poi l'allarme due case evacuate strade chiuse per gli ordigni a Francavilla al mare l'omicidio di Agliona la sorella una lite prima delle coltellate nel corso dell'incidente probatorio la giovane ha ricostruito i momenti prima dell'aggressione stavo dormendo fui svegliata dalle gride in casa lui voleva una relazione ma Agliona disse di no nella pagina della Val Pescara l'azienda d'alta moda vestina la Brioni addio di Malverdi arriva il nuovo manager l'amministratore delegato lascia dopo due anni al suo posto Medi Benabdadi la prima uscita del nuovo CEO sarà il prossimo 7 gennaio a Pitti Uomo a Firenze torniamo sul messaggero completiamo le pagine di Pescara nella pagina dell'area metropolitana Paolo e Gabriella un tragico destino lo schianto a Spoltore sulla provinciale dopo la Scorrano l'altra notte ispirato Cecamore suo marito che aveva 74 anni il giovane alla guida dell'appunto negativo ai test per l'alcol e la droga i funerali domani mattina la Madonna dei Sette Dolori poi andiamo a vedere le pagine di Chieti sul messaggero in apertura niente rimborsici il comune cita in giudizio due ministeri l'ente deve avere oltre 890 mila euro a vuoto la diffida l'audienza fissata a marzo il sindaco di Primio la nuova interpretazione è in un comunicato e ci ha fatto un grave danno poi le polemiche per il polo museale che deve restare nel capoluogo questa la richiesta di Chieti poi ancora parcheggi gratis e corso allo scalo le proposte poi Don Domenico scrive la storia di Sant'Anna nella pagina della provincia furti le bestie tornano in tribunale siamo a Lanciano i serapenatori che assaltarono la villa dei Martelli accusati anche di una serie di colpi in bar e tabaccherie razzie con spaccate i romedii rinviati a giudizio tre di loro hanno chiesto il rito abbreviato per avere uno sconto di pena e noi possiamo andare a vedere il servizio che riguarda proprio questa notizia richiesta di rito abbreviato per una lunga serie di furti nei bar tabacchi di Lanciano e dintorni da parte della gang rumena composta da sei persone tutte condannate lo scorso 8 ottobre in primo grado dal tribunale di Lanciano per la brutale rapina alla villa dei coniugi Carlo Martelli e Niva Bazan avvenuta il 23 settembre 2018 settimane prima dal 5 al 20 settembre la banda mise a segno furti con spaccata in diversi locali rubando pacchi di gratta e vinci sigarette e moneta contante dalle slot machine per decine di migliaia di euro per ora la responsabilità accertata riguarda quattro colpi tre in bar tabacchi di Lanciano e uno a Castelfrentano la procura indaga su altri colpi analoghi oggi davanti al giudice Andrea Belli hanno chiesto il rito abbreviato per furto aggravato i fratelli Constantin e Ion Turlica e Bogdan Ghiviziu discussione forse sentenza fissata per il 28 aprile prossimo non escludono il ricorso a rito abbreviato anche gli altri tre imputati Marius Martin Aurel Ruset e Alexandro Colteano che compariranno invece il 17 marzo davanti al giudice Maria Rosaria Boncompagni con possibilità poi di riunire i procedimenti proprio indagando su questi furti i carabinieri di Lanciano piazzarono dei GPS sulle auto dei rumeni scoprendo poi la loro grave responsabilità nella rapina ai coniugi martelli Pagine di Chieti sul centro la politica scontro in atto verso le elezioni nel capoluogo teatino ecco Salvini ma la Lega si spacca non c'è accordo sugli incarichi il partito pronto a lanciare di Stefano ma ora si schierano due militanti della prima ora non c'è dialogo dicono Daloisi e Mammarella contestano il nuovo corso esclusi dalle decisioni informati grazie a Facebook intanto spunta il primo manifesto elettorale idea abruzzo brucia tutti sul tempo la polemica Movimento 5 Stelle i teatini disertano l'incontro con la deputata Torto poi Lanciano l'addio ad Antonio la città piange Donenzio il vescovo della squilla si è spento ieri all'ospedale Renzetti dove era ricoverato in seguita ad una caduta le reazioni di Cipollone Ghidelli e Pupillo funerale oggi alle 15.30 nella Basilica nel taglio basso foto Ose per costringerla a fare sesso un anziano a Chieti con la scusa di un colloquio di lavoro spoglia a forza una 53enne andiamo adesso nelle pagine di Teramo restiamo sul quotidiano il centro ad Esca due ragazzi sui social viene arrestato un giro in provincia di pedopornografia con un 35enne di Giulianova che si fingeva una bella ventenne contattando gli adolescenti e convincendoli a filmarsi nudi poi tra le macerie spunta un presepie a Faiano di Montorio allestito da due anziani nel paese fantasma come segno di speranza poi entro Natale 100 case per gli sfollati la presidente dell'ater Ceci sblocca l'acquisizione degli appartamenti venerdì saranno fatti i rogiti notarili c'è un'istanza di dissequestro per il casello di Rosetto sulla 14 il sindaco la riapertura è possibile del casello problema legato ad un viadotto che proprio insiste nei pressi del casello ancora la foce del Cerrano è ostruita torrente a rischio di sondazione in caso di forti piogge l'acqua potrebbe invadere la statale arenato l'accordo con il consorzio di bonifica per la pulizia a Silvi sempre a Silvi incontro sindaco autostrade a 14 chiusa per lavori centinaia di tir sulla statale 16 andiamo a vedere poi nel taglio basso ad altri deposito dei bus 5 stelle nulla è cambiato secondo di Luzio nonostante l'accordo con Tua i mezzi sostano ancora a Colle Maralto andiamo a vedere le pagine di Teramo sul messaggero eccole qui popolare di Bari c'è un esposto la verità su quelle operazioni la chiede il CODA con sala procura di Teramo ora indagate per omessa vigilanza Confindustria rassicura i correntisti nessun motivo per cadere nel panico al centro della vicenda del dissesto della banca il controverso acquisto della Tercas quando non ci sarebbero state le condizioni poi finge di essere una donna ed esca ragazzini sul web abbiamo già visto questa notizia nel taglio basso maestra alla sbarra bimbi maltrattati 5 genitori si costituiscono parte civile poi il casello a 14 a Roseto il traffico in tilt via i blocchi chiuso il casello il sindaco autostrade confida di poter ottenere a breve un parziale di sequestro ma i comuni sono molto preoccupati per le ripercussioni negative sul territorio con i restringimenti natale nel caos ancora i genitori la nostra è una scuola di serie B a Tortoreto il plesso del paese trascurato dal comune a Giulianova portata in banca portata in banca e costretta a pagare trentenne arrestato dietro il maldestro tentativo di obbligare la donna a cambiare un assegno c'è forse un debito di droga non saldato andiamo a vedere le pagine di Teramo anche sulla città torniamo al caso popolare di Bari De Bustis conti truccati e cattivi manager la D della banca del mezzogiorno così si esprimeva in una conversazione intercettata il 10 di dicembre intercettazione pubblicata da fanpage.it fa parte dell'inchiesta della procura di Bari in cui è indagato anche l'amministratore delegato De Bustis il Codacons presenta un esposto contro Banca d'Italia per l'acquisizione di Tercas per verificare la vigilanza sulla fusione poi l'Ater fa un bel regalo di Natale agli sfollati sbloccate le procedure per l'acquisto di 100 case ancora il teatro romano epocale anche se indefinito il sindaco torna sul progetto che definitivo non è dopo il voto 60 giorni di tempo per le modifiche andiamo avanti ultimo viaggio per Donenzio Chiarini ieri in cattedrale i funerali del missionario stroncato da un infarto mentre era in Burundi aveva 76 anni il caso pedofilia adesca minore in rete fingendosi una ragazza arrestato da polposte per violenza sessuale pedopornografia e tentata prostituzione minorile in manette la banda dei furti di auto partivano dalla Puglia per rubare lungo tutta la dorsale adriatica sette colpi solamente a Giulianova quattro pugliesi sono finiti agli arresti grazie all'operazione dei carabinieri del comando di Macerata e poi la questione a 14 speranze di riapertura per il casello di Roseto incontro in municipio con il gestore della 14 presentata l'istanza per il dissequestro del viadotto SS 150 andiamo a vedere ora le pagine dell'Aquila sul centro e sul messaggero partiamo proprio dal centro appuntamento a vuoto scuole da ricostruire disertato il summit col ministro Fioramonti regione provincia e comune non si presentano all'appuntamento ed esplode la polemica le clamorose assenze riconducibili all'entrata in scena in veste di stazione appaltante di Invitalia poi allarme nella Marsica per l'ondata di furti Pescina svaliggiata la casa del vice sindaco un'altra abitazione svaliggiata ladri in fuga di fronte al proprietario che ha aperto la porta Giulianella ci vuole più sorveglianza ancora preso con quattro coltelli una pistola giocattola da Vezzano ai domiciliari 24 anni fermato durante un controllo e poi è morto Mauro Deramo ex manager della ASL aveva 84 anni andiamo a vedere adesso le pagine dell'Aquila sul messaggero eccole qui fusione camera di commercio mise boccia Teramo sulla revoca lettera perentoria della direzione vigilanza la delibera di stop non può avere alcun effetto confermata la linea dell'assessore Mauro Febbo il processo sancito dal decreto del 2017 resta fermo andiamo avanti Fioramonti promette più soldi al GSSI abbiamo già visto la visita del ministro all'Aquila e per le scuole scende in campo in Vitaglia istituita la centrale di committenza per i fondi si spera nel mille proroghe siamo arrivati alle pagine della Marsica Sanità il summit si sposta in municipio il primo cittadino di Sante Maria Berardinette e gli altri sindaci hanno fatto il punto sulle iniziative inconcludenti della regione amministratori e dipendenti sanitari hanno partecipato in massa all'appuntamento il giallo della mancata concessione della sala andiamo a vedere le pagine di sport ora partiamo dal centro Iannone stop per doping tranquilli sono pulito così il pilota Vastese tracce di steroidi anabolizzanti nel controllo del treni novembre a Sepang questa è l'apertura dello sport sulla MotoGP ma adesso andiamo a vedere la doppia pagina invece dedicata al Pescara da parte del centro Sebastiani Pescara da 6 ma voglio più coraggio il presidente Zauri non rischia però questa squadra vale i playoff questa è l'opinione del presidente del Delfino la festa di Natale Zauri invertiamo la rotta Frosinone ho sbagliato io tecnico confermato dal club fa piacere playoff non ne abbiamo mai parlato a Spoltore la cena con 700 invitati tra cui giocatori dirigenti politici e sponsor e noi andiamo a vedere l'intervista a Zauri Mancano poche ore alla gara con il Trapa in una gara fondamentale per il Pescara come ci si prepara Luciano a questa sfida? non abbiamo armi che lavorare lavorare sodo lavorare bene con professionalità ma anche con entusiasmo perché comunque il calcio è un gioco dobbiamo farlo seriamente è il nostro lavoro è chiaro che abbiamo bisogno di una vittoria assolutamente contro una squadra che è lì penultima che ha appena cambiato l'allenatore per cui ha qualcosina probabilmente dal punto di vista della della voglia di fare bene probabilmente l'allenatore nuovo trasmette questo è chiaro dalla nostra abbiamo tanto di più di loro probabilmente dal punto di vista di atteggiamento eccetera per cui cercheremo di fare la nostra partita assolutamente in maniera serena tra virgolette ma non dobbiamo sbagliare Luciano Zauri sente la fiducia dell'ambiente ma soprattutto della società del Presidente Sebastiani in queste ore? assolutamente sì assolutamente sì il Presidente è la persona che mi ha scelto appunto per guidare questa squadra sapendo appunto le difficoltà che sarebbero state ma non solo mia da parte di tutti quel senatore durante la stagione ha delle difficoltà dovute a mille situazioni non accampiamo scuse a Frosinone abbiamo fatto male ma insomma la classifica è talmente corta lì da vedere che una vittoria cambierebbe tutto a proposito di Frosinone a mente fredda rifaresti le stesse scelte manderesti in campo il Pescara con lo stesso modulo della partita dello Stil è troppo facile adesso dire che forse cambierei qualcosa io credevo fermamente in quello che volevamo proporre non ci siamo riusciti ovviamente però insomma in tutte le partite anche quelle vinte qualcosa di sbagliato c'è stato anche questa persa qualcosa di buono probabilmente si è visto è chiaro che quando perdi hai poco da recriminare voglio dire quindi siamo consapevoli di quello che non abbiamo fatto e sappiamo quello che dobbiamo fare tu dicevi non dobbiamo accampare scuse giustamente però hai anche ricordato qualche giorno fa che questa squadra sta facendo a meno dall'inizio del campionato di Tuminello e Balzano sta facendo a meno di Fiorillo che è il portiere e il capitano di Palmiero anche di Bettella nell'ultima gara sono assenze pesanti evidentemente questa squadra non può fare a meno di determinati giocatori io non mi nascondo mai ma nessuna squadra può fare a meno di 4-5 diciamo pseudo titolari che dopo il campo magari dice altro però sono giocatori che sulla carta sono stati presi o erano qui per giocarsi la maglia di Tuminello e Tuminello non avendoli tutti assieme contemporaneamente fa sì che tutte le squadre di calcio dalla Serie A all'ultima possano incontrare difficoltà noi le abbiamo avute purtroppo quasi contemporaneamente e quindi tante situazioni sono anche adebitabili appunto a queste situazioni Domenica il Trapani dopo pochi giorni ci sarà la gara di Livorno e poi si chiuderà il giornale d'andata con il Chievo quanti punti Luciano Zauri spera di portare a casa troppo facile dire nove beh io veramente sono concentratissimo come la squadra sulla partita di Domenica col Trapani non si può pensare ad altro abbiamo bisogno di fare assolutamente punti dobbiamo vincere è chiaro che poi vincere aiuta a vincere tornerà il modulo con l'albero di Natale nella gara con i siciliani beh il Natale si avvicina per cui siamo pronti a rispolverare l'albero adesso andiamo a vedere l'apertura dell'Abruzzo Sport sul messaggero Pescara il rilancio passa per Palmiero l'abbiamo sentito anche dalle parole di Zauri quanto hanno pesato le assenze sulla sua squadra domenica prossima rientrerà il regista napoletano contro Trapani bisogna vincere con lui in campo 15 punti ottenuti finora io fondamentale non penso di esserlo queste le parole del giocatore il Trapani esonera Baldini ritornerà Cosmi questo è il dubbio per la panchina del Trapani ancora per quanto riguarda invece la Serie C Tomei Teramo devi fare un gran ritorno il portiere bilanciano positivo abbiamo i mezzi per risalire oggi il vertice per lo sciopero andiamo a vedere anche sul sul centro la Serie C con il Teramo al giro di Boa Tomei a Musoduro il bilancio del Teramo non è positivo il portiere i numeri evidenziano problemi in difese davanti e dalle retrovie che si costruiscono le vittorie di gruppo poi su questa pagina Lucarelli il doppio ex gioca Chieti Avezzano il tecnico marsicano un errore rivoluzionare la squadra teatina i bianco-verdi serve qualità poi ancora eccellenze promozione oggi si giocano le partite di Coppa Italia ma torniamo al Teramo sulla città Sciopero quando serviva ai calciatori Tomei sull'andata bilancio non positivo la protesta era più giusto farlo sulla regola degli over carattere atteggiamento con il Catania Furlan ha fatto la mia stessa parata su Martignago ma il loro difensore in scivolata ha evitato il gol migliorare significa anche curare l'atteggiamento in alcune situazioni così il portiere del Teramo ma torniamo sul quotidiano il centro e completiamo le pagine di sport con il basket di Serie B il rilancio dell'esateate Sorgentone riparte dalla difesa il coach buona la prima ora miglioriamo transizioni e contropiede idea Castelli e Quarisa poi il volley B1 donne Chieti Orsonia un derby salvezza le teatine recuperano la Lestini Malovic in dubbio per sabato nel taglio basso il calcio a 5 Gui trascina l'acqua e sapone ai quarti di coppa della divisione l'atletica la Fidel premia Gran Sasso e Aterno completiamo anche il messaggero Iannone fuori per doping sono pulito e tranquillo abbiamo già visto il pilota colpito da questa problematica che riguarda il doping passato ha avuto una relazione con Belen attualmente fidanzato con un influencer provvedimento della federazione mondiale nei confronti delle pilota vastese dell'Aprilia il Lanciano è costretto a battere il Castelnuovo mercato il difensore Mechetti sta per firmare nel mirino El-Ahiadi per quanto riguarda il calcio di eccellenza poi la promozione l'Aquila verso il big match giornata per la solidarietà il DS di Genova se battiamo il Mutignano è un passo avanti ma il campionato non è finito per il mercato dei dilettanti Chieti su Cruz e Traini verso Castelnuovo abbiamo così completato la nostra rassegna stampa io vi ringrazio per averci seguito anche questa mattina l'appuntamento con Mattino 6 e per domani alle ore 8 la nostra informazione oggi alle 14 alle 19 e alle 23 con il TG6 da parte mia l'augurio di una buona giornata di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra Grazie a tutti.